Sia lodato Gesù Cristo Ciao a tutti! Eccoci qui al Vangelo di oggi con fra Stefano Il Vangelo del Giorno Martedì 22 ottobre San Giovanni Paolo II Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Preghiamo O Dio ricco di misericordia, che hai chiamato San Giovanni Paolo II, Papa, a guidare l'intera tua chiesa, concedi a noi, forti del suo insegnamento, di aprire con fiducia i nostri cuori alla grazia salvifica di Cristo, unico Redentore dell'uomo. Per Cristo nostro Signore. Amen! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca Gloria a te o Signore In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese, siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Parola del Signore Lode a te o Cristo Gesù ci invita a essere come servi vigilanti. Essere vigilanti significa aprire gli occhi non solo alla realtà che ci circonda, ma anche alle sottili manifestazioni dello Spirito Santo nella nostra vita quotidiana. È un invito a notare la bellezza di un fiore che sboccia, il calore di un sorriso amichevole, la gentilezza di un gesto inaspettato. In questi momenti apparentemente ordinari possiamo scorgere la straordinaria presenza di Dio. Questa attenzione ci permette anche di riconoscere il bene che spesso passa inosservato. È in un mondo che sembra concentrarsi sul negativo. Essere vigilanti ci aiuta a vedere gli innumerevoli atti di bontà e di amore che accadono intorno a noi ogni giorno. Inoltre questa consapevolezza ci aiuta a comprendere meglio il tempo in cui viviamo. Ogni epoca ha le sue sfide e opportunità. E riconoscerle ci permette di vivere più pienamente, di rispondere alle chiamate del nostro tempo e di contribuire positivamente al mondo che ci circonda. Vivere con questa vigilanza non significa essere in uno stato di ansia costante, ma piuttosto in uno stato di gioiosa attesa e apertura. Significa essere pronti a cogliere la bellezza, il bene e la grazia di Dio in ogni momento, trasformando così la nostra vita quotidiana in un'esperienza ricca e significativa. Che possiamo quindi attraverso le nostre giornate, con occhi aperti e cuori attenti, essere pronti a riconoscere, ad accogliere ciò che di prezioso c'è in ogni istante della nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. LA BENEDIZIONE PER TE E PER LE PERSONE CHE PORTI NEL CUORE Il Signore sia con voi Vi benedica Dio onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo Amen! Grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di youtube e anche in altri modi vi unite alla comunità del Vangelo e con i commenti, con le condivisioni collaborate alla diffusione della parola. Dio vi benedica, pace e bene, ciao ciao e abbi cura di te! Bravo Beppi, bravissimo! Grande scavatore, bravo, bravo!